buongiorno buonasera scusate ragazzi ciao a tutti benvenuti in questa diretta buongiorno buonasera sì ciao sono già fuori di testa grazie grazie a tutti intanto di essere qua sono abbastanza emozionato in realtà perché è la prima diretta su youtube che faccio però ho intenzione di farne altre devo essere sincero perché mi piacciono molto intanto ditemi nei commenti fatemi sapere se mi sentite bene datemi una mano dai in questi primi minuti così facciamo connettere aspettiamo uno due minuti tutti e poi partiamo con le domande buonasera a tutti comunque grazie a tutti di essere qua mi fa davvero tanto piacere mi sentite perfetto grandi dai qua da bergamo da bergamo vi mando un bacione grande spero dai che questa situazione del coronavirus si stia un po riprendendo speriamo qua bergamo è ancora ancora un po così così e spero dalle vostre parti un po meglio dai però facciamo il possibile e appena finirà tutta questa tutta questa situazione vi aspetto in pizzeria da me a bergamo se siete in zona se passate volentieri ci vediamo ci conosciamo che mi farebbe tanto piacere conoscervi tutti di persona visto che da quando incominciato a fare video su youtube ho visto tante persone diverse che sono venute da me nei miei profili questo mi fa davvero tanto piacere quindi ecco per i nuovi che sono entrati nel mio mondo nel mondo della panificazione pizza benvenuti a tutti e e grazie di guardare sempre i miei video di commentarli di condividerli sono davvero contento che vi piacciono dai spero che diciamo che l'intenzione che ho è quella di investire sempre di più su questo canale su youtube e vorrei proprio farlo diventare passatemi il termine un mio diario personale dove metterò sia ricette che viaggi perché capirete che io non sono magro non sono magro sono sono bello tra cagnotto mi piace mangiare amo il cibo buono e vi porterò magari a mangiare con me nei vari posti dove vado a mangiare e ho già in mente di fare qualche video dove andrò a vedere o meglio vi farò vedere in aziende come si produce ad esempio i vari prodotti avevo già in mente con i vari formaggi della mia zona e non i prosciutti tutte queste cose qua che a me mi fanno già venire la bava alla bocca ditemi la vostra se vi piace un po come programma del canale quindi avevo in mente di fare un po ricette quindi ricette tutorial ricette complete una parte dedicata a un mio blog personale tipo cene mangiare come dei matti e poi una parte dedicata allo scoprire prodotti nuovi e a capire cosa ci sta dietro a un prodotto di altissima qualità buonasera a tutti e buonasera a tutti grazie di essere di essere qua sono sono davvero contento e emozionato allora incominciamo subito mi avete già fatto un bordello di domande non ci sto più dietro quindi io adesso da qua cercherò adesso fatemi tutte le domande che volete io pian piano leggo sempre le domande che mi fate così che tutti che sono in ascolto riescano a imparare e capire perché magari voi mi fate una domanda io ne rispondo in contemporanea ad un'altra diversa che magari a voi in quel momento non era venuta in mente però magari vi aiuta lo stesso quindi questa cosa è molto importante perfetto ciao a tutti comunque allora bravo paolo che inforni la pizza in teglia grande allora partiamo con le domande madonna quanti quanti siete allora leo apro i corsi diciamo quando questa situazione finirà ho già in mente ho già in mente di fare i corsi qua da me in pizzeria ma mi sto organizzando per fare corsi online e a breve metterò anche un contest quindi un una prova speciale per tutti voi che fate le mie ricette e ditemi voi se vi piace l'idea io l'ho immaginata così che tutti dovete fare almeno una cosa o diciamo una pizza che ho messo su youtube della ricetta completa voi dovete farla a casa e la migliore foto di tutti voi quindi creerò un tag personale dove potete mettere le foto su instagram e da lì io sceglierò la foto più bella e il vincitore avrà una lezione privata di 3-4 ore con me personalmente faremo una videochiamata dove impasteremo insieme io il vincitore così così dai c'è un bel gioco per 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 accaparrarsi il titolo comunque buonasera agli ultimi arrivati grazie di essere qua comunque lasciatemi un bel pollicione in su se volete che il mio canale cresca se volete donare tanto meglio vi ringrazio perché ci credo tanto in questo canale e ci credo tanto a tutte le persone a voi che siete qua con me stasera ma in generale anche chi non è potuto venire questa sera con me qua in diretta e quindi mi farebbe tanto piacere che mi aiutaste a far crescere questo canale allora parto con le domande ok scusatemi sono sono andato avanti un po un po troppo allora allora Sara mi chiede perché nelle farine commerciali non è mai riportata la forza in w allora in antichità o meglio anni fa non c'era la specializzazione di oggi che abbiamo nella farina in generale una volta c'era una farina soltanto che noi o meglio il panificatore il pizzaiolo il pasticcere di turno usava e si faceva andare bene quella per tutti i prodotti che voleva fare se pensate al salto di qualità che hanno fatto i mulini ma le aziende in generale ma questo è anche merito nostro che merito nostro sia di panettieri ma comunque anche persone a casa che oggi non basta fare la pizza buona ma vogliamo ricercare del perché è successo quella cosa lì e allora cambiando nella ricetta cambiando i procedimenti noi andiamo a cambiare a rendere il prodotto migliore quindi rispondo alla domanda nel senso che una volta non c'era così tanta richiesta di farina non c'era così tanta richiesta di una farina specifica ed è per quello che poi anche a casa diciamo che i professionisti o meglio i mulini hanno catalogato le persone a casa non diciamo come non professionisti ma comunque persone che non ne capivano così tanto e allora hanno fatto questa scelta poi adesso ho visto che da un po di tempo ormai certe aziende danno la dicitura w e si sono specializzate un po però comunque diciamo che in linea generale sulle sulle farine per professionisti quindi quelle che usano tutte le attività quei sacchi da 25 kg c'è scritto praticamente anzi in realtà il mulino sul sito internet oppure ve le manda voi se le chiedete ci sono si chiamano schede tecniche che è un foglio dove c'è scritto tutti 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 i componenti della farina tutte le sue caratteristiche eccetera eccetera scusate se alcune volte mi soffio il naso ho il raffreddore allora io intanto continuo continuo con le domande allora potresti parlare delle impastatrici come sceglierle come sceglierne una allora allora per prima cosa di impastatrici sul mercato oggi ne esistono di tre tipi ok la spirale quindi vasca che gira in un senso verme all'interno che gira nello stesso senso seconda impastatrice è l'impastatrice a braccia tuffanti quindi ha due braccia che fanno questo movimento e creano attrito quindi creano formazione di glutine invece ce n'è un altro tipo che si chiama impastatrice forcella che non tutti l'avete visto perché assomiglia un po' a quelle pentole di rame dove si cuoceva la polenta quindi c'è una vasca fissa che resta ferma o si muove dipende dai modelli e c'è praticamente uno scudo fatto così uno scudo che fa così praticamente è come se girasse la polenta e quindi questa è più diciamo si usa di più negli impasti duri a idratazione bassa quindi una volta si usavano molto le impastatrici a forcella invece oggi oggi no nel senso che da quando c'è le impastatrici a spirale oggi cioè quelle che ad esempio uso io nei miei video qualche volta quelli sono si sono evoluto si sono evolute scusate molto nel tempo anche perché adesso ci sono sempre più ingegneri sul pezzo che studiano bene le forze di come gira il verme come scalda la pasta come deve essere lo spezza pasta cioè il piantone centrale che c'è a una certa distanza con la pasta quindi che scalda di più o di meno eccetera eccetera e quindi queste sono le tre principali impastatrici che che trovate che trovate sul mercato allora allora tutti gli impasti tra virgolette pane o pizza possono essere fatti ad alta idratazione oppure dipende molto dal tipo di farine usate oppure solo un problema di tecnica di impastamento allora tutto potete farlo ad alta idratazione l'alta idratazione cos'è per idratazione si intende quantità di acqua che c'è all'interno di un impasto già da qua capite che più acqua c'è se voi prendete 100 grammi di un impasto a bassa idratazione e 100 grammi di un impasto ad alta idratazione se li mettete qua in uno ha molta più farina quindi meno acqua e nell'altra ha molta più acqua già qua capite che lo il peso è lo stesso però in cottura se voi questo è molto importante se voi cuocete ad una temperatura giusta il vostro prodotto quell'acqua riesce a fuoriuscire perché adesso un po si fa la gara a chi mette più acqua all'interno degli impasti ma non è sempre così non è che più metto e meglio è no bisogna arrivare a un punto dove la farina riesce a reggervi anche quelle quantità di acqua studiate in base al diciamo al processo che voi volete fare ok quindi un 100 per cento di idratazione cioè un chilo di farina e un chilo di acqua non vi regge tre giorni l'impasto quattro giorni perché ricordatevi che più acqua c'è all'interno dell'impasto più attività fermentativa esiste all'interno perché l'acqua più acqua c'è più aumenta questo questo processo quindi ricordo rispondo alla domanda dicendo che sì potete fare tutto alta idratazione l'importante che cociate bene il prodotto ricordatevi che ad esempio se fate un pane ad alta idratazione avrà bisogno di una cottura prolungata più prolungata rispetto a un pane duro a un pane duro ok appunto perché quell'acqua voi dovete farla fuoriuscire perché sennò rischiate che il pane risulti pesante perché quando si parla di pesante a mio avviso non è solamente il processo ad esempio ok io ho sbagliato a formare il pane ho sbogliato a fare l'impasto non ho non ho incordato bene l'impasto quindi la maglia glutinica non si è formata ma è anche vero che l'acqua che c'è all'interno del nostro impasto se non fuoriesce rimane attaccata e l'acqua pesa ok se voi non la fate evaporare quest'acqua pesa e quindi tante volte quando diciamo un prodotto non è leggero o è pesante non è detto che un impasto sia fatto male magari è solo cotto nella maniera sbagliata tutto qua ok scusatemi se non vi rispondo alle vostre che le vostre diciamo affermazioni che state facendo la pizza grandi intanto vado alle domande allora per fare una buona pizza è meglio fare idratazioni alte o basse allora io sono amante di pizza ad alta idratazione mi sto cercando di specializzarmi in quello e amo diciamo la fragranza e la scioglievolezza che ha un impasto ad alta idratazione rispetto a una bassa però amo amo la pizza napoletana che la pizza napoletana ha una bassa idratazione rispetto a una pizza in teglia ad alta idratazione capito diciamo che su un chilo di farina la napoletana il disciplinare dice dal 54 per cento quindi su un chilo di farina 540 grammi di acqua mi sembra massimo il 62 per cento di idratazione quindi 620 su chilo di farina e però diciamo che una buona napoletana può essere comunque leggera perché se limitata bene e cotta nel modo giusto è comunque un gran prodotto a mio avviso allora simone deve dice con il mio forno non riesco a bruciacchiare sufficientemente la parte superiore della pizza sarebbe giusto cucinare la pizza inizialmente senza condimento e girarla sei un grande man grazie simone allora può essere che diciamo che le mie ricette sono basate diciamo su uno standard di forni che abbiamo tutti però sono consapevole che non tutti i forni cuociono allo stesso modo quindi diciamo che ognuno di noi deve un pochino arrangiarsi e cercare i difetti e i pregi che ha il nostro forno ad esempio se fai fatica a bruciacchiare la parte superiore quindi la parte sopra la cosa che ti consiglio io è di mettere direttamente la pizza vicino al grill quindi il grill nella parte superiore lo accendi bene e metti subito la pizza lì se fa fatica se invece non fa fatica quindi se bruciasse troppo sopra contrario la metti sotto allora allora cucinando senza dice ho un licoli per chi non sapesse cos'è un licoli è un lievito madre liquido trovate un video di come farlo crearlo e mantenerlo sempre nel mio canale lo trovate nato il 14 aprile raddoppia entro le 4 ore va anche oltre ho provato a fare il pane ma lo trovo troppo acido è un consiglio allora sì se è troppo acido puoi fare un rinfresco doppio cioè una parte di lievito due parti di farina due parti di acqua quindi raddoppi la dose di farina e acqua così che tu dando più farina abbassi l'acidità praticamente una volta che hai fatto questo rinfresco vai al raddoppio del licoli e poi va in impasto allora federico ombrosi dice ciao ian nei tuoi video ci sono due diverse ricette con biga quali sono gli svantaggi barra vantaggi di usare un rinfresco oppure una biga 100 per cento quali proporzioni dovremmo seguire per il rinfresco allora la biga al 100 per cento come dice la parola stessa vuol dire che c'è solamente biga quindi non c'è farina di rinfresco quindi il giorno dopo non c'è farina di rinfresco la cosa bella del 100 per cento biga cos'è è che voi avete un prodotto pronto in poche ore ok perché voi fate 12 ore di biga fate il rinfresco e in 4 5 ore siete in cottura ok il fatto di non aggiungere farina vi aiuta a accorciare i tempi perché ricordatevi che più aggiungete farina nel rinfresco e più i tempi si allungano ok e a mio avviso quando ad esempio voi volete fare un impasto il giorno dopo o due giorni dopo sicuramente non vi consiglio di fare un 100 per cento biga perché è un impasto appunto che già la biga è un processo che va a spezzettare tanto le proteine e il glutine della nostra farina se noi tiriamo avanti questo impasto per molto tempo diciamo che la farina che noi mettiamo nel rinfresco fa da cibo cioè fa da struttura ulteriore al nostro impasto no e se noi non ne mettiamo e tiriamo i tempi troppo lunghi rischiamo che l'impasto non tenga più e nel caso tenesse se voi avete usato una farina veramente forte ma non ve lo consiglio rischiate che il prodotto quando va avanti con le ore non colori praticamente il malto che io vi consiglio sempre nei video e anche il miele sono degli zuccheri semplici che aiutano la colorazione però il malto e il miele li consiglio solamente negli impasti che hanno dei prefermenti tipo ad esempio la biga tipo ad esempio il pulish tipo ad esempio un pre impasto una pasta di riporto tutte quelle cose lì dove c'è un fermento che viene fatto in un momento prima e il giorno dopo si rimpasta allora quel momento secondo me ha senso mettere il malto e il miele appunto perché apportano zuccheri semplici che sono un nutrimento per i nostri lieviti e vi fanno colorare la pizza in un modo migliore ecco allora madonna mia quante domande allora eccomi qua allora king san 14 mi dice hai mai fatto una pizza con farina di semola sì assolutamente sì la semola è un elemento abbastanza particolare perché non è grano tenero quindi se avete visto il mio video di come scegliere la farina perfetta ho parlato del grano tenero cioè la classificazione di farina di doppio zero tipo zero tipo uno tipo due integrale la semola invece poi farò un video a parte totalmente sulla semola e non abbiamo queste cinque caratteristiche di macinazione diverse ma ne abbiamo solamente due che è la semola e la semola rimacinata come capite dal nome rimacinata vuol dire che è più fine perché viene macinata ulteriormente la semola ha una particolarità il colore dorato d'oro che è proprio il tipo di grano che risulta così e poi anche il psl che vi dirò in un video cos'è che il psl è praticamente il rapporto tra potenza e lunghezza che ha un determinato tipo di grano questo tipo di dato lo sanno e lo scoprono i molini cioè coloro che macinano il grano e tramite delle analisi capiscono quanto un grano ha quindi la forza di spingere verso l'alto e quanta forza ha di estendersi ok c'è un dato che un numerino che va da da zero a due ok e solitamente la semola a zero virgola ottanta barra uno di psl si chiama psl questo questa cosa qua è una cosa che non trovate sui sacchetti di farina pensate neanche in quelli professionali ma sono cose diciamo sono esperimenti da laboratorio cioè o meglio ci sono macchine che fanno queste prove e nelle schede tecniche cioè solamente i professionisti però se siete diciamo curiosi e magari siete in contatto con un molino e vi interessa sapere il psl di una farina potete chiederlo al molino e vi mandano la scheda tecnica dove c'è scritto p barra l psl comunque comunque ritornando alla domanda sì consiglio molto fare gli impasti con semola escono escono molto buoni ultima cosa sulla semola che avendo un psl alto ad esempio il grano tenero ha una capacità di estensibilità maggiore invece il la semola no quindi la semola tende sempre avere un glutine molto corto infatti è sempre consigliato sulle semole sulla semola in generale fare un autolisi oppure un fermo macchina se avete visto il mio video del pane mille l'autolisi è il mettere a contatto farina e acqua e praticamente in quel processo degli enzimi attaccano la farina tramite l'acqua e rendono più estensibile il vostro impasto quindi se avete problemi di fare impasti con semola che continuano a ritirarsi l'autolisi è una è una buona è uno buono scamotage allora pamela guerrini ciao con il lievito madre liquido si può fare solo il pane no tutti i prodotti che vuoi ricordatevi che un conto è la ricetta un conto è il fermento che voi mettete all'interno cioè la massa lievitante la massa lievitante può essere lievito madre può essere il lievito di birra può essere la pasta di riporto può essere una biga un polish che è sempre fatto da lievito di birra però comunque è una massa lievitante oppure un'acqua fermentata oppure oppure chi ne ha più ne metta chi è più che ha più fantasia ne sa di più allora allora pane 80 per cento idra quanto tempo impastarlo dopo aver messo licoli suggerimenti per la formatura allora dopo aver messo il licoli a mano una ventina di minuti però se tu usi la tecnica che ho usato nel pane mille buchi no nel senso che metti farina lievito e acqua lasci tre ore a venticinque ventotto gradi e poi metti il sale metà della della seconda acqua se ce l'hai o se non ce l'hai metti solamente il sale impasti due minuti lasci fermo sempre a temperatura ambiente diciamo un'oretta e mezza ecco poi comincia a fare le pieghe poi fai come nel video che ho scritto tutto e detto tutto salve i hanno visto la procedura col bimbi a impasto fatto quanto deve lievitare grazie complimenti ti seguo con grande interesse grazie toni mille allora l'impasto fatto a mano scusami a impasto fatto deve lievitare dipende da da come vuoi farlo tu nel senso il processo ricordatevi che il processo di un prodotto o di una pizza di un pane lo scegliete voi non c'è una regola precisa per dire no la pizza per essere digeribile devi fargli 24 ore no devi fargli 40 ore no potete decidere voi quando volete farla da quello che ho capito io diciamo che non ho molta esperienza perché sono nel ho 22 anni comunque non non sono un grande esperto di farine robe varie però diciamo che sono molto curioso mi piace molto sapere tutto mi piace molto specializzarmi in quello che faccio comunque io ti dico per un processo normale di impasto con il bimbi lascialo una notte in frigor quindi 10 12 ore in frigo aspetti ovviamente che la massa da così raddoppi fai la tua pagnotta lasci lievitare a temperatura ambiente altre tre ore quattro ore e poi e poi sei pronto per stendere allora debora folino la pietra refrattaria per i forni casalinghi fa differenza nella cottura se sì come sceglierà sì debora fa una grande differenza allora partiamo dal presupposto che i forni casalinghi o anche ad esempio abbe io un'attività mi faccio l'esempio ho un forno da cucina i nostri forni come sia quello mio da cucina che anche il vostro a casa si chiamano forni e convenzione cioè hanno una ventola interna che spara aria calda all'interno della camera e grazie a questa ventola più o meno elevata o assente fa ricircolare il calore all'interno della camera quindi il prodotto cresce e cuoce grazie a questo calore ok avendo una pietra refrattaria praticamente cosa riusciamo a dare in più la pietra refrattaria una volta calda o meglio vi spiego la pietra refrattaria prima che voi dobbiate cuocere dovete metterla all'interno del forno sulla su una griglia appoggiate la pietra dentro nel forno e lasciatela nel forno almeno un'ora diciamo che la pietra deve accumulare il più possibile calore ok questa pietra in fase di cottura vi aiuta molto prima cosa a cuocere nella parte sottostante della pizza perché il problema dei forni di casa è sempre quello che non avendo appunto una spinta dal basso o meglio del calore che arrivi dal basso la pietra refrattaria vi aiuta veramente tanto comunque se hai bisogno di una pietra refrattaria nella mia pagina amazon jans fan patti ve la consiglio quindi se vuoi guardarla qua in descrizione proprio qua sotto al video se sei da cellulare clicca clicca al titolo e ti esce la descrizione ti esce la mia pagina amazon nella sezione attrezzature trovi la pietra refrattaria per casa che vi consiglio comunque in generale se avete bisogno di qualcosa prodotti sulla mia pagina amazon vi consiglio molte cose che io uso personalmente se avete bisogno sono lì allora king sun qual è il miglior libro per imparare a fare la pizza nessuno ti dico nessuno perché almeno io da quando avevo 13 14 anni che ho cercato libri ho comprato libri ma nessuno mi ha dato diciamo le competenze che sono riuscito ad acquisire tramite un corso tramite parlando con un collega quindi piuttosto io vi consiglio piuttosto che spendere 100 euro in un libro che poi parliamoci chiaro tanti libri tante belle foto sono dei bei album fotografici ma stringi stringi non c'è nulla purtroppo è così e aspetterò aspetterò di farlo io e quando lo farò se siete interessati vi scriverò anche che avrò fatto il libro comunque piuttosto che spendere 100 euro il libro spendilo in un corso online spendilo in un corso dal vivo dove riesci a capire i tocchi della pasta purtroppo tramite video non riesco a far trasmettere tutto perché non è facile mi rendo conto anche perché non tutti sono dei professionisti non tutti sono nati imparati e però appunto il tocco con la pasta un qualcuno che lavora tanto con con quel mestiere lì ad esempio fare la pizza o il pane secondo me vi aiuta veramente tanto in tutto quello che dovete fare allora complimenti sei bravissimo grazie denis ho un dubbio il polish lo posso fare con manitoba e grano saraceno oppure farro con che percentuale allora puoi farlo con tutte grano saraceno puoi farlo ma attento perché il grano saraceno non ha glutine e in generale nella ricette in generale da panificazione sconsiglio di andare oltre il 20 per cento della di farine senza glutine perché se tu vai oltre rischi che poi l'impasto appunto non ti stia insieme comunque puoi farlo anche col farro il farlo puoi farlo dipende che farro usi ad esempio il farro monococco che tendenzialmente un farro molto debole quindi ha pochissimo glutine metti nel 20 30 per cento massimo mentre se usi un farro spelta puoi usarlo anche al 100 per cento perché il farro spelta un pochino più di glutine quindi puoi usarlo la tipologia di farro dovresti vederla dietro dietro l'etichetta ci dovrebbe essere scritto allora quali corsi online consigli per ora non ne consiglio ne consiglio pochi piuttosto corsi online aspetta aspetta perché io adesso sto organizzando dei bei corsi online però devo organizzare bene tutti i tempi tempistiche perché voglio racchiudere in poche ore però che tutti vedano tutto perché in in tanti corsi online non si riesce molto a capire ci sono cose che secondo me non sono molto diciamo che non è che impari molto piuttosto quei 100 euro di corso online finché non lo farò io che allora ti dico so quello che ti so dire so quello che imparerai però piuttosto fai un corso dal vivo quindi presentati in loco e fai un corso allora ciao yan poi metterai sul tuo canale queste live si certo resteranno salvate allora oscar dice quando uso pulish e quando biga allora il pulish e la biga sono due preferimenti molto simili si comportano allo stesso modo in quello che nella mia piccola esperienza ho visto a mio avviso che il polish si comporta meglio negli impasti morbidi quindi se dovete fare un pane d'hamburger un pane in cassetta piuttosto che una pizza in teglia morbida piuttosto che dei panini morbidi il polish mi piace di più mentre su tutti i prodotti croccanti viva la biga quindi ciabatte pane croccante pane millebuchi pizza in teglia la romana teglia pala romana tutto quello che croccante preferisco biga allora luca semprini dice ciao yan cosa consiglieresti ad un ragazzo che vorrebbe entrare nel mondo della panificazione in particolare pizze e magari aprire un'attività in futuro ci sono corsi o scuole che proponi allora luca devo essere sincero io ti consiglio di andare da una pizzeria che lavora bene e fatti uno stage gratuito piuttosto quindi spendi il tuo tempo perché ho fatto vari corsi ho speso migliaia e migliaia di euro per fare certi corsi e sono tornato a casa dove quello che avevo studiato e la realtà non combaciavano e quindi da questa cosa qua mi sono detto quanti soldi ho speso inutilmente perché sono io il primo io sono dell'idea che il denaro è uno strumento per che è uno strumento che noi dobbiamo muovere per diventare una persona migliore perché ci aiutano nella vita ci aiutano nel benessere però diciamo che non mi piace buttare via i soldi ma come credo nessuno quindi io piuttosto luca ti consiglio vai in una pizzeria o in un panificio fatti uno stage fatti due mesi tre mesi a lavorare capisci com'è il reale lavoro che ci sta dietro un banco da pizza a fare un determinato numero di pizze sai come gestire le temperature questo è il miglior consiglio che ti do dal cuore allora ciao jan se con la spirale dopo due minuti partiamo direttamente con la seconda velocità e non andiamo in prima per teglia romana in corda di più allora non è che l'andare in prima velocità in corda di più o di meno diciamo che se voi andate tanto in seconda velocità rischiate che poi l'impasto è proprio tanto nervoso quindi rischiate che poi fate fatica a stendere la pizza e questo ve lo sconsiglio molto quindi è per quello che io nei miei video in tutti i miei impasti generali a parte ad esempio il panettone cioè se voi pensate ad esempio a un panettone voi direte jan fa anche panettoni sì sono un grande amante di panettoni ne mangia quintali e ne li faccio sì sono proprio appassionato di panettoni magari verso natale metterò anche la ricetta completa dei panettoni così li fate anche voi a casa e ci divertiamo tutti insieme comunque se fai tutto in seconda velocità su un prodotto come la pizza rischi che sia troppo difficile da stendere non te lo consiglio quindi nei miei video io consiglio sempre 6-7 minuti in prima e gli altri 10 minuti in seconda velocità allora arrivo eh allora Francesco dice ciao boss pizza al piatto napoletana idratazione 70% che temperature per non spiattellare spiattellare il panetto intendi? credo di sì comunque dai 24 ai 28 gradi non spiattella più stai più uscite freddi più spiattella ciao Jan se volessi fare un impasti di grano duro quanta acqua in più dovrei mettere rispetto a una 00 altamente proteica grazie mille per il tuo fantastico lavoro grazie Alberto allora comportati più o meno allo stesso modo se ad esempio una semola integrale ti assorbirà qualcosina di più come il grano tenero però occhio io non consiglio di andare oltre rispetto al grano tenero ma tieni così le ricette uguali che va benissimo allora come si capisce se l'impasto raggiunto la massima maturazione e il top della lievitazione allora massima maturazione vuol dire tutto e niente mentre il top della lievitazione lo avete quando avete fatto un bel impasto avete rispettato molto bene le temperature ok formato la pagnotta nel modo giusto e fatta lievitare nel modo giusto alla giusta temperatura comunque parlando di pizza diciamo che il top della lievitazione è quando voi è anche il miglior secondo me risultato lo avete quando voi affondate le vostre dita aspetta devo interrompere devo interrompere Luca Semprini grazie grazie mille sei gentilissimo grazie 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 mille dei 5 euro sei un grande ti amo allora dicevo che il top lo avete quando voi affondate le dita all'interno del vostro impasto e restano bene incamerati gas quindi si formano delle belle bolle e l'impasto diciamo che ha la forza di tenere quindi la vostra diciamo impronta resta giù e non torna su quello secondo me è il top perché quando ad esempio voi stendete una pagnotta che è tanto rigida quindi voi stendete ma l'impasto si trattiene i gas però rimane comunque molto 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 rigida rischiate appunto che tutto quello rigido ve lo ritrovate nel prodotto finale che è un pochino duro da masticare e risulta anche un pochino un pochino elastico ecco comunque per parlare di quello eccolo lì allora ciao Jan quanto incide la puntata negli impasti di pizza in teglia è importante che raddoppio triplichi cosa cambia e quanto incide questa parte nel processo Alessandro ti dico il 50% diciamo che noi facciamo raddoppiare la massa perché i gas servono a far stare in piedi la nostra pagnotta se hai mai provato a fare un impasto puoi farlo anche diretto con biga con puli tutto quello che vuoi finisci l'impasto e fai la pagnotta subito senza così lasci lievitare tutto quello che è vedrai che la pagnotta incomincia comincia comincia dai lati si spiattella si spiattella si spiattella si spiattella e e quindi appunto il riposo in massa serve per far sostenere la pagnotta durante la fase di lievitazione quindi a trattenere i gas di cottura e a sviluppare di più comunque si è importantissimo allora allora Silvano dice ciao ho seguito passo passo la pizza in teglia con impasto fatto a mano senza planetaria ma non mi viene alveolata come la tua dipende dal forno forse io ho quello ventilato purtroppo grazie allora ci sono molteplici fattori che possono incidere sui tuoi problemi Silvano allora il numero uno è che l'impasto non sia correttamente elastico quindi la prima cosa da controllare quando si fa un impasto è che questo impasto appunto sia ben elastico il secondo è la temperatura cerca di non chiudere mai l'impasto quindi voi dovete misurare al cuore dell'impasto gli impasti non devono essere inferiori ai 22 23 gradi e non devono essere maggiori di 30 gradi 31 gradi non le consiglio mai quindi il top lo avete tra i 23 24 gradi meglio 24 ai 29 29 sei un po' all'eccesso però riesci ancora a gestirla quindi da 24 a 29 avete 5 gradi di range diciamo che appunto le temperature sono fondamentali per il buon processo perché vi aiutano a tenere la pagnotta su e a far sì che i lieviti in modo corretto poi oltre a questo può essere ad esempio anche Silvano un errore di stesura perché ad esempio se voi potete fare l'impasto più bello del mondo tutto quello che volete però una volta che andate in cottura in stesura non aprite bene le dita non fate bene l'impronta giusta ma tenete le dita chiuse e fate così tutte le bolle tutti i gas che hanno formato li perdete e quindi c'è l'alveolatura che si crea all'interno di un impasto è aria capito sì è la pasta che si alza però diciamo che più bolle avete all'interno e più questa alveolatura è grossa allora scusate allora ok allora Toto ciao Jan per avere un licoli sempre bello attivo e forte che rinfreschi dovrei fare allora io ti consiglio di fare rinfreschi allora se hai la possibilità una volta al giorno ok adesso con questo caldo che dovrebbe arrivare adesso ti consiglio di rinfrescare una parte di lievito due parti di farina due parti di acqua ok quindi una parte due due se vuoi andare in impasto lasci raddoppiare il lievito e vai in impasto oppure se vuoi diciamo rinfrescarlo e basta per mantenerlo per il mantenimento fai lo stesso procedimento diciamo che se il vostro lievito è così e a raddoppio così voi vi fermate qua e in questo momento lo mettete in frigor scusate volevo ringraziare Elisa Damiano per il vostro sostegno e anche Elisa Guerra grazie grazie mille mi fa davvero tanto piacere delle vostre donazioni grazie grazie mille allora Simone la temperatura dell'impasto non supera mai i 24 gradi consigli allora se riesci aumenta 26-27 gradi allora 27 per quello che faccio io per come lavoro io secondo me è il top è il top che riuscite riuscite a fare allora scusate se non rispondo a tutte le domande ragazzi sono tantissime grazie comunque del vostro sostegno sono davvero contento allora Fabio Culotta dice ciao Jan che ne pensi della tecnica napoletana dove si parte dall'acqua e potresti spiegarci la differenza tra appunto partire dall'acqua o dalla farina benissimo allora immaginatevi aspetta no vabbè non le ho immaginatevi due ciotole due bacinelle dove avete in una una spugna completamente secca quindi nuova invece nell'altra avete una bacinella piena di acqua le quantità di acqua che andranno nelle due bacinelle sono uguali se voi ad esempio facciamo nel primo caso come alla napoletana quindi la bacinella è piena d'acqua e voi inserite la la spugna secca all'interno invece nell'altro abbiamo una bacinella vuota ok mettiamo la nostra spugna secca all'interno e pian piano ci aggiungiamo la nostra acqua da questa prova voi potete già capire e la farina si comporta allo stesso modo che nel primo caso nello stile napoletano l'acqua fa molta più fatica a essere assorbita mentre se voi partite dalla spugna secca quindi dalla farina e aggiungete acqua poco per volta quella spugna ha più capacità di assorbimento a parità di ricetta e quindi questa è la prova per per dire che partendo dalla farina l'impasto assorbe di più e si forma meglio però su impasti a bassa idratazione tipo ad esempio napoletana se si fa il 60% di idratazione sia che tu parta dalla farina o dall'acqua noti poco la differenza ma se tu devi fare alte idratazioni quindi su un chilo di farina 800 grammi di acqua esempio se parti dall'acqua ti esce un macello uno schifo esce la pastella per fare i gamberi in tempura per farti capire capito quindi il consiglio mio è partire sempre dalla farina in qualsiasi tipo di impasto è molto importante allora Yuri dice per pizza ad alte idratazioni è meglio usare la foglia o il gancio entrambi sono ottimi guarda io mi trovo io mi trovo molto bene con entrambe sono vanno benissimo diciamo che lo scudo ti aiuta di più Manu Castiglio grazie grazie mille per la donazione grazie grazie mille diciamo che il gancio essendo più grande vi diciamo che vi aiuta di più a tenere la pasta sostenuta però nel brutto cioè nel caso negativo vi scalda molto la pasta perché lo scudo tende a fare molto attrito con la pasta rischiate che l'impasto si surriscaldi molto quindi quando fate l'impasto col gancio consiglio mettete acqua in frigorifero assolutamente allora allora scusatemi leggo le domande allora Elisa Pistorelli dice c'è un metodo per fare conversione illicoli da ricette con altri tipi di lievito allora prendi molto con le pinze quello che ti sto per dire nel senso che illicoli scusate diciamo che illicoli cambia molto dal tuo illicoli al mio illicoli all'illicoli di x all'illicoli di b all'illicoli di c ok perché ognuno lo rinfresca a modo suo Roberto Madrassi grazie mille per la tua donazione ti voglio tanto tanto bene grazie mille del supporto ragazzi appunto dicevo che illicoli in base a come lo rinfrescate voi più o meno spesso le temperature giuste o sbagliate il vostro illicoli ha una certa capacità di sviluppare di lievitare ok più siete bravi e più il vostro illicoli spinge ok più più è performante più non è se voi lo rinfrescate spesso non è acido invece ad esempio se lo rinfrescate una volta ogni quattro giorni e lo usate quella volta rischiate che poi gli impasti cominciano a diventare acidi comunque ritornando al discorso più o meno io più o meno ho visto che questo è più o meno un rapporto prendi con le pinze mi raccomando un grammo di lievito di birra ok e 80 90 grammi di di licoli però però diciamo prendilo con le pinze ecco però più o meno più o meno quello è allora scusate allora mister tereg grande ciao allora grazie che sei passato grazie mille vincenzo dice la pinza romana lunga lievitazione a quanti gradi dovrebbe uscire sempre tra i 24 e i 29 gradi consiglio mio quella è la miglior temperatura per far partire i lieviti nel giusto modo e far sì che il vostro impasto sia sodo e che trattenga i gas perché parliamo allora aspetta laura dice domandona pizza con lievito di birra contro licoli differenze allora se voi scusate a parità di ricetta se usate uno o l'altro possono essere anche uguali però diciamo che il licoli essendo un lievito madre contiene lieviti che appunto contiene anche il lievito di birra perché il lievito di birra essendo naturalmente presente nell'ambiente ok ce l'abbiamo da tutte le parti in tutto l'ambiente con il licoli essendo un lievito madre voi tirate all'interno una flora batterica quindi lievito di birra in più altri batteri Stefania grazie dell'adorazione ti amo grazie grazie mille sono contento davvero grazie grazie mille arrivo mi sono un attimo mi sono perso ho perso il filo del discorso porca miseria allora dicevo pizza lievito madre e licoli dicevo che il licoli è molto più difficile da gestire perché c'è sia lievito di birra all'interno nella flora in più altri batteri ok io faccio sempre l'esempio è come se voi siete in una casa e convivete con vostra moglie ok che con tutti i problemi che ha però comunque vostra moglie in questo caso il lievito di birra passatemi il termine e invece nell'altro siete nella stessa casa solamente che ci sono 50 persone diverse con 50 problemi diversi 50 culture diverse modi di pensiero diversi e un conto è convivere con una persona sola piuttosto che 50 già da qua capite che nell'impasto in uno cioè lievito di birra sappiamo cosa fa sappiamo come si comporta sappiamo che a certe temperature fa così ok invece nell'icoli sappiamo e no nel senso che i batteri che abbiamo all'interno di un lievito madre sono molto complessi ok e se voi avete un licoli in buono stato queste 50 persone che convivono all'interno diciamo che convivono bene ma se voi non rinfrescate bene il lievito lo tralasciate rischiate che proprio l'impasto va in acido però comunque se voi mantenete entrambe entrambi i prodotti alle giuste temperature e li curate nel modo giusto non ci sono non ci sono differenze ciao Luca Taddei bacione ciao caro ciao lievito di birra secco con quello normale c'è differenza nella quantità in cui si deve usare si Gianluca allora solitamente io consiglio in masse superiori al chilo chilo e mezzo il rapporto è di uno ok un grammo di lievito di birra secco 3 grammi di lievito di birra fresco attenzione sopra il chilo e mezzo di impasto totale ok che di fatti io in tutte le mie ricette che sono al di sotto dei 700 800 grammi faccio il rapporto di uno a due ok un grammo di secco due grammi di fresco volevo ringraziare Nicola Vassallo per la denominazione grazie sei stato gentilissimo grazie mille e comunque più o meno questo è il è il rapporto uno a due uno a tre comunque il secco contenendo un mi sembra un 7% di umidità hai molta più concentrazione di lieviti invece il lievito fresco ne contiene un 70% mi sembra ne hai ne hai di meno però tutti e due svolgono tutto alla perfezione e sono identici nel nel panificare quindi non non c'è nessuna differenza Mario Corso grazie per la tua donazione grazie mille sono davvero contento ragazzi 336 wow grazie grazie a tutti di essere qua magari fatemi sapere nei commenti se vi piacciono queste dirette perché a me personalmente piace molto perché mi piace conoscervi cavoli siamo sempre dietro uno schermo e mi piacerebbe vedervi abbracciarvi un pochino però fatemi sapere nei commenti se vi sono piaciute vi piacciono questi tipi di dirette questo parlare insieme dai fatemi sapere la vostra nei commenti mi raccomando io intanto rispondo un'altra domanda allora diego dice ciao i lievitati che faccio sono tutti con lievito madre purtroppo però vengono fuori i prodotti pesanti e cingommosi benché siano molto alveolati come posso rimediare usa il lievito di birra tranquillamente o appunto come ti ho detto fai dei rinfreschi al lievito madre più lunghi 1,2,2 o 1,3,3 quando sei in estate proprio estate estate che fa caldo e il rapporto di rinfresco lungo ti aiuta molto a tenere l'acidità del lievito corretta comunque allora controtenore dice ciao Ian come posso calcolare un riferimento per le quantità di lievito da utilizzare in relazione alla temperatura e alle ore di lievitazione allora se voi fate un impasto diretto ok più o meno su un chilo di farina se voi fate volete fare un processo di 24 ore 30 ore mettete l'esempio del mio video che ho fatto della pizza impastata a mano il ciclo totale era 24 ore di massa più altre 4-5 ore di lievitazione a temperatura ambiente dopo quindi sono 30 ore ecco quindi io diciamo che su un chilo di farina metto 2 grammi di lievito di birra secco quindi 4-5-6 di lievito di birra fresco mi raccomando attenzione massimiliano muscetti grazie 10 euro addirittura sei gentilissimo non dovevi grazie ti amo ti amo sei un grande grazie mille siete siete davvero gentilissimi allora stefano busato dice ho un problema di stesura dal piano nel trasferimento della teglia qualche consiglio allora se hai problemi di trasferimento Federico grazie per la tua donazione grazie davvero di cuore grazie 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 se hai questo problema qua vuol dire che non hai formato la pagnotta abbastanza diciamo stretta ricordatevi che ad esempio se voi vi trovate un impasto che tende molto a lasciarsi andare quindi che non è ben sodo dategli due pieghe in più quindi stringetelo di più e questo fa sì che l'impasto tenga di più oltre questa qua questo problema che a lui è una reazione a catena ad esempio se non rispettate le temperature ad esempio se uscite troppo bassi o troppo alti rischiate proprio che l'impasto vada in collasso quindi io vi consiglio se siete vabbè se siete appassionati di pizza siamo qua a parlare di questo quindi è ovvio che siete tutti appassionati comunque se siete interessati sulla mia pagina Amazon trovate il termometro con sonda che costava poco vi aiuta molto a capire la temperatura interna degli impasti e per capire se avete fatto tutto nel modo corretto grazie Elisa che hai fatto le ciabatte bravissima sono contento sono davvero contento per me allora allora ciao Manuel Facente dice ciao Ian mi puoi spiegare per il pulish se è meglio farlo fermentare a temperatura ambiente o in frigor non l'ho mai provato però sono più propenso al frigor sei un grande grazie Manuel allora a temperatura ambiente adesso che siamo in estate consiglio di metterlo in frigor bravissimo appunto perché con l'alzare della temperatura i lieviti si moltiplicano molto di più quindi rischiate che se in inverno a parità di ore 16 ore di pulish in inverno 16 ore di pulish in estate vi ritrovate in uno il pulish corretto e in estate il pulish che è completamente andato anzi risulta anche acido perché è andato avanti con la temperatura e anche con le ore ricordatevi che i lieviti vanno in base alla temperatura più è freddo più rallentano attenzione i lieviti se sono in frigor non muoiono ricordatevi ma rallentano la loro attività fermentativa e basta quindi più freddo c'è e più rallentano più caldo è e più corrono e fanno quello che vogliono comunque d'estate vi consiglio pulish in frigor di fatti d'estate metterò un po' di ricette appunto con le tecniche del frigor che secondo me vi saranno molto utili Linda dice c'è un modo per riprendere un impasto collassato allora per collassato intendi dopo la massa cioè dopo ad esempio un riposo in frigor e lo trovi collassato se se ho capito quello oppure se ad esempio fate una pizzata tra amici avete dieci pizze ne fate fuori otto vi rimangono due pizze quelle due pizze potete ripiegarle quindi ridare una piega a queste due pizze che avete che vi sono vi sono avanzate e potete rimettere in frigor il giorno dopo le cuocete normalmente ecco allora allora Jan buonasera vorrei chiederti le quantità dell'impasto che fai a mano nell'ultimo video e volevo sapere se in una leccarda da forno casalingo uscirebbero minimo due pizze allora no con la ricetta che ti ho dato io in quella impastata a mano esce una teglia 30x40 sono 610 grammi di impasto comunque se vuoi fare due pizze raddoppia la dose per due grande allora scusatemi ci sono allora 10 minuti ancora di diretta e e poi vi lascio vi lascio andare vi lascio andare a cena mi raccomando perché anch'io ho fame io ho sempre fame non so come mai non so voi ma io ho sempre fame oltretutto sono a dieta adesso ho una fame da matti mangerei anche il computer allora ok sì sì linda ho lievitazione superata oppure temperatura troppo alta sì sì perfetto ho capito quello che volevi dire allora allora Claudio dice quanto deve stare un pulish pulish con 10 grammi di lievito in un chilo di farina 10 ore 12 ore 12 ore va bene Giordano preferisci pulish o biga ho detto prima biga in prodotti croccanti pulish prodotti morbidi allora ti ho visto dimagrito la madonna no in realtà ho perso 6 chili e mezzo però ragazzi è durissima dieta poi un amante del cibo come me è una tortura è una tortura veramente allora ciao il pane mille buchi quanto lievito madre solido metti 70 grammi sulla ricetta che ho scritto utilizzo con il lievito madre essiccato un tuo parere scusate allora lievito madre essiccato si comporta allora tralasciando che nel lievito madre essiccato c'è sempre dentro uno starter di lievito di birra perché non si è ancora trovato un modo per essiccare il lievito madre diciamo naturalmente quindi diciamo che si comporta all'incirca come un lievito di birra è leggermente meno attivo leggermente meno forte però è praticamente lievito di birra il consiglio che ti do io è di mettere più o meno poi dipende anche lì dall'attività del lievito più o meno forte un 3 4% sulla sulla farina se fai una biga mentre se vuoi usare il secco e vuoi fare un impasto diretto quindi metti 7 8% quindi 70 80 grammi a chilo di farina allora grande Jan come posso usare lo scarto del lievito madre dopo il rinfresco bella domanda nel senso che devi essere brava credo che tu sia una lei devi essere brava a cercare di non fare rinfreschi troppo grossi nel senso che se tu hai bisogno per una ricetta di mettere 100 grammi di lievito madre non fare rinfreschi da 100 100 100 che ti ritrovi 200 grammi di lievito madre in più piuttosto fai un 50 50 50 ne usi 100 gli altri 50 li puoi rimettere in frigor e rinfrescare il giorno dopo o nei giorni successivi oppure il lievito usato così che si chiama l'esubero cioè quello che tu non usi puoi usarlo in ricette che non hanno bisogno di grande lievitazione tipo ad esempio puoi fare una schiacciatina puoi fare un cracker puoi fare un grissino puoi fare un panino piccolino morbido ci sono tanti metodi però non ti consiglio di usarlo come il lievito principale per una per una pizza per una per un impasto normalissimo contro tenore grazie grazie della tua donazione come faccio a capire se l'impasto ha troppa corda o raggiungo un punto di rottura allora quando ha troppa corda diciamo che sulle alte idratazioni farei sempre un po' fatica a sapere che diciamo che ti accorgi che ha tanta corda dopo che cazzo di mosca allora te ne accorgi dopo dopo quando vai in stesura quando quando ha troppa corda e solitamente il consiglio che posso darti io e te ne accorgi anche quando proprio fai la pagnotta cioè dopo il riposo in massa fai la pagnotta se senti che fai fatica a fare la pagnotta vuol dire che è troppo in corda quindi se hai troppo in corda la pagnotta fai una chiusura leggera quindi pinza solamente i lati gli angoli dagli una preforma rettangolare in base alla teglia rettangolare se la hai rettangolare e e poi appunto usa usa questa questo accorgimento qua invece il contrario se hai l'impasto che non è in corda quindi tende a rilassarsi lo stringi bene nella pagnotta che così gli dai forza allora utente curioso ciao Jan le teglie in ferro blu che possiamo usare in casa hanno bisogno della bruciatura prima sì tutte le teglie in ferro hanno bisogno di bruciature ciao Mauro grazie della donazione un abbraccio grazie grazie dicevo sì tutte le teglie in ferro hanno bisogno di bruciature perché sennò vi fanno la ruggine solitamente almeno le mie quelle che uso qua le ho trattate la prima volta un filo d'olio d'oliva proprio filo forno a 200 gradi ribaltate al contrario quindi la teglia non con i lati che vanno su ma girata a testa in giù per mezz'oretta 40 minuti se siete in casa aprite tutte le finestre perché fa un po' un odore sgradevole e poi le lasciate raffreddare all'interno del forno naturalmente e praticamente vi si creerà una patina sopra la teglia e appunto quella patina è la bruciatura che vi aiuta a non far attaccare la pasta sulla sulla teglia ed è anche per quello che se voi bruciate bene una teglia non serve oliare la teglia difatti io non ungo mai le teglie in ferro proprio perché non si attaccano mai se avete fatto la bruciatura bene non vi si attaccano allora allora il corvo strunz ciao ciao ian tutte le domeniche faccio l'impasto della pizza con il polish ma risulta sempre molto appiccicoso prima della lievitazione e anche dopo come posso fare allora evidentemente forse non hai usato una farina adatta o magari hai provato hai sbagliato a impastare consiglio mio è togli un 5% di acqua dalla ricetta totale e prova a fare lo stesso identico impasto e vedrai che con 5% in meno di acqua riuscirai molto meglio e fammi sapere fammi sapere la ricetta uguale procedimento uguale togli 5% di acqua stop allora dove possiamo acquistare le teglie Claudio Albano ve le consiglio sempre nella mia pagina Amazon che trovi il link qua sotto in descrizione in descrizione trovi il link che ti manda a Amazon ciao Jan per una teglia casalinga 40x30 quanto impasto devo preparare per ottenere una pizza alta abbastanza da aprire e farcire vanno bene? allora cavoli 850 grammi tanto secondo me fa la massimo 750 da farcire ma già 750 sei tanto di impasto anche 700 no 750 puoi farlo dai 750 approvato 750 allora arrivo allora I'm Crocs si arrivo grazie Jan eseguo la ricetta che hai messo in descrizione tutta al doppio allora si si raddoppia la dose e i tempi tutto uguali ma si dai che fai buona figura o ma taggatevi mi raccomando nelle vostre storie su Instagram che cavoli ma siete bravissimi o cazzo Moritz grazie della donazione grazie sei davvero gentilissimo o ma non lo so grazie la percentuale di idratazione quanto influisce sulla croccantezza molto nel senso che solitamente gli impasti idratati in generale se cotti nella maniera giusta quindi cotti bene risultano molto croccanti ed è un croccante piacevole non è un croccante duro ma è un croccante che si scioglie fragrante come quello che sentite nei miei video ecco per farvi capire le alte idratazioni danno questa caratteristica di sfogliato di croccante friabile di croccante non duro appunto chiamatelo come volete allora ciao Iano ho provato a fare il tuo impasto a mano con le stesse dosi ma mi è venuto troppo liquido appiccicoso quale può essere il problema puoi spiegare meglio la questione temperatura grazie cucinando senza della donazione grazie le farò sicuramente altre live perché mi piace parlare con voi sono contento davvero davvero allora Gianni prima cosa assicurati di usare la farina giusta prima cosa seconda cosa assicurati di impastare nel metodo corretto terza cosa fai le pieghe nel modo giusto quando fate le pieghe mi raccomando aiutatevi con delle mani bagnatevele sciacquate sotto acqua corrente proprio due secondi con le mani leggermente umide fate le pieghe vedrete che riuscite molto meglio a farle allora ciao allora Elisa Damiano teglia in ferro e alluminio differenza allora io preferisco molto nel ferro perché mi dà un effetto diverso sulla pizza anche della crosta sotto più fine e conduce meglio il calore a mio avviso il ferro poi non non sono un esperto di materiali nel senso che non li lavoro non faccio ferro né alluminio quindi non sono specifico però visto che il ferro lo preferisco molto negli impasti ciao Ian l'impasto con polish va lasciato lievitare in frigor con queste temperature allora il polish si mentre il rinfresco va fatto a temperatura ambiente allora ciao perché quando sforno si sgonfia la pizza evidentemente perché non è stata dentro abbastanza quindi lasciala dentro qualche minuto in più e poi tirala fuori allora ragazzi io vi lascio perché è un'ora e diciassette diciotto un'ora e diciotto di diretta io volevo ringraziarvi ancora tantissimo per la vostra compagnia sono stato davvero contento di aver fatto questa live e fatemi sapere voi se vi va di fare altre dirette e comunque fatemi sapere anche del del calendario diciamo del programma che avevo in mente da fare del canale quindi ricette blog personale e alla scoperta dei prodotti di altissima qualità che secondo me è una cosa che è molto interessante per tutti comunque vi lascio vi lascio alla vostra serata e grazie mille a tutti di essere stati con me sono stato davvero bene grazie ciao a tutti e buona serata ci vediamo ai prossimi video alla prossima live e state sintonizzati sulle mie pagine mi raccomando ciao ciao